Ciao, sono Angelo, ho 21 anni e ho da poco concluso il percorso di Academy in Goma, azienda parte del gruppo Omnia Technologies. Fin da piccolo sono sempre stato appassionato alla meccanica, mi piaceva smontare e rimontare tutto quello che faceva parte di questo mondo. Sono stato spinto a iniziare questo percorso di Academy per realizzare i miei progetti e i miei obiettivi ed entrare a far parte di un team di persone dal quale imparare a lavorare. Le cose che mi sono piaciute di più dell'Academy in primis è stato il percorso formativo, il rapporto che si è creato con il professore. In secondo luogo, quando sono arrivato nell'azienda Goma, mi è piaciuto tutto, sia l'ambiente di lavoro, i colleghi e tutto quello che era la meccanica vista da vicino. Ciao, sono Riccardo, ho 26 anni, ho terminato da poco il mio percorso all'Academy Giuseppe Desirò, che è un'azienda parte del gruppo Omnia Technologies. Ciao, mi chiamo Hamza, ho 22 anni e da poco ho concluso il percorso dell'Academy qui a Giuseppe Desirò, azienda che fa parte di Omnia Technologies. La cosa che mi ha spinto a iniziare questo percorso è stata sicuramente la possibilità di avere un futuro stabile a livello lavorativo, a livello di ambizioni, a livello di progettualità. Ho sempre avuto questa passione per la meccanica e l'Academy mi ha dato l'opportunità di farne parte. Nell'Academy sono stato seguito da un disegnatore, un progettista, e per una persona come me che proviene da altri settori, che comunque era la prima esperienza nel settore metallo-meccanico, ritrovarsi con questi disegni è stato difficile. Fortunatamente però, con il suo insegnamento, mi ci sono cimentato con molta facilità e efficienza. Nell'Academy il fatto di essere seguito da tanti tutor mi ha aperto le porte ai diversi progetti che ci sono qui in azienda a cui spero di far parte in un futuro.